Vi faccio vedere però queste immagini di un personaggio, voi sapete che tutto nasce dalla questione che da anni va avanti nel Donbass, ucraini e russi si affrontano da otto anni ma anche molto di più, nel 2014 poi c'è stata la rivolta che ha destituito l'uomo forte, che piaceva ai russi e noi in questi giorni ho incontrato una persona che ha addestrato le milizie ucraine, milizie che sono molto spesso viste, catalogate come fasciste, ascoltate cosa ha detto al nostro lupo. Sono stato in Afghanistan, sono stato in Kurdistan, sono stato in Africa in diversi paesi, sono stato in Kosovo, sono stato in Libia. In Libia è entrato nella villa di Gheddafi? Sì, due giorni dopo che Gheddafi era stato ucciso. Anche in Ucraina? Sì, certo, anche in Ucraina perché c'era questo battaglione, il battaglione di forze speciali Donbass, io sono stato ingaggiato per insegnare delle tecniche militari su come sono i movimenti in area urbana, come liberare eventuali ostaggi e come entrare nelle case, nei palazzi, nei hotel, eccetera, come eliminare eventuali problemi. Eventuali nemici? Lei stava dalla parte dei filo europei e filo americani? Sicuramente, sempre stato, secondo me, dalla parte giusta. Vi pagava l'Ucraina? No. Ok, posso sapere chi vi pagava? Questo non glielo posso dire. L'italiano normale, pensa che si è scoppiato adesso l'incendio, in realtà la scintilla è di otto anni fa. Esatto, è scoppiato otto anni fa e nessuno praticamente sporadicamente ne parlava alla televisione, ma quasi è passato in sordina. Se Putin dovesse entrare con i carri nelle città, che cosa può succedere? Una strage, una strage di civili e di soldati, sia da una parte e sia dall'altra parte. Perché? Perché non so se lei si immagina le città che possono essere un po' più grandi, come Dnipo Petrovsk, Kharkiv, Kiev, dove ci sono edifici che sono alveari e da qualsiasi di queste centinaia di finestre può una persona sparare un controcarro. I controcarri sono esattamente le armi che stiamo mandando noi? Esatto. Gli stiamo mandando, quindi come gli inglesi, come i tedeschi e come gli americani. E a che servono? A che servono? Servono praticamente per aprire la scatoletta del carro armato. Sono tubi a visuale diretta, uno inquadra il carro, schiaccia, parte e il carro è fritto. Fine. Lei ha addestrato il battaglione Donbass, le avevano proposti di addestrare anche il più famoso battaglione Azov. Beh, ero stato avvicinato ma ho detto di no, è troppo e non va bene. Cioè sono nazisti come dicono? Sì, sono nazisti, diciamo filo nazisti. Non dimentichiamoci che gli ucraini durante la seconda guerra mondiale avevano creato le vaffine SS ucraine, quindi diciamo sono… I nipotini di Polini. I nipotini, ma non va bene ovviamente. Lasciando stare la politica però bisogna vedere che battaglioni c'è nei coloni filorussi. Io, c'è dei comandanti filorussi che insomma definirli nazisti dall'altra parte sono veramente pesi e hanno fatto cose veramente pesi sia alla popolazione, sia sia, cioè stupri, uccisioni, il pisto delle osi allucidanti, dai. Sono bestie. Ma chi? Tutte e due. La guerra tramuta la persona umana in bestie.